Ed eccoci oggi all'EMPA di Torino con Giusy D'Angelo, l'educatrice che si occupa del progetto Ex Combattenti che implica la rieducazione e la riabilitazione dei pitbull o comunque dei cani che hanno avuto esperienze di combattimento. Lascio subito la parola a lei che sicuramente vi saprà spiegare meglio. Il progetto Ex Combattenti è nato nel 2002 dove l'EMPA ha gestito il sequestro di questi cani usati esclusivamente per i combattimenti con la collaborazione di diversi enti quali anche l'Università Veterinaria di Torino con l'appoggio di diversi veterinari comportamentisti. L'obiettivo primario ovviamente era togliere questi cani dalle condizioni di vita e da quello che facevano in primo luogo. In un secondo era appunto trovare la possibilità per questi cani di essere rieducati con la possibilità di una nuova adozione nei limiti del loro benessere in base alla loro personalità. Quindi quello che è stato fatto in una fase iniziale è stata anche affrontata una ricerca scientifica per dimostrare che i pitbull comunque hanno dei comportamenti altamente sociali che quello per cui combattevano era realmente un apprendimento non perché sono dei cani cattivi. Questa è una cosa che ci tengo a dire. I pitbull sono cani normali, come qualunque altro cane, hanno un grado di pericolosità come può averlo un pastore tedesco come un rottweiler ma come qualunque cane di grossa taglia. Quindi quello che abbiamo fatto sono stati dei test comportamentali per individuare qual era il potenziale di pericolo e in un secondo momento abbiamo valutato realmente la personalità di questi cani. In linea di massima questi nostri ragazzi che ormai sono qua con noi, alcuni di loro da lontano, 2002, alcuni di loro hanno avuto la fortuna di essere adottati. Quindi vivono tranquillamente, serenamente in appartamenti con famiglie che hanno anche dei bambini. Quindi di questo noi siamo molto molto orgogliosi. Alcuni di loro invece purtroppo sono ancora ospitati presso di noi, hanno comunque una qualità di vita molto bella. Sono sani, vengono accuditi, vengono portati in passeggiata, continuano il loro progetto di recupero comportamentale sperando che anche loro abbiano la fortuna di essere riadottati. Sì. Un'altra cosa molto bella che stiamo riuscendo a fare in questi due o tre anni è sviluppare la personalità di ogni singolo individuo, quindi ogni singolo cane che è ospitato all'interno del canile. Per noi non è importante insegnare ai cani a stare seduti o a terra o camminarci al piede. Per noi è importante che il cane esprimi la sua personalità, che impari ad autocontrollare i propri stati emotivi. Questa è la cosa fondamentale che ci permette di essere sereni nel momento in cui un cane viene adottato. Perché nel momento in cui un cane sa supportare lo stress, quindi trovare dei nuovi comportamenti, ovviamente limiterà un rischio di aggressione, un rischio di pericolosità, sia nei confronti dell'ambiente esterno, quali possono essere altri animali, o comunque proprio nel contesto sociale, quindi in un parco dove ci sono dei bambini che giocano o la bicicletta che corre. Quello che noi abbiamo fatto è stato veramente semplicemente capire chi era Oney, capire chi era Blanche, Litz, Gino, tutti i nostri ospiti, al punto di riuscire a insegnargli a poter stare nell'ambiente esterno, in un ambiente sociale che a oggi è difficile, non solo per i nostri PITEX combattenti, ma per qualunque cane è difficile vivere nella nostra realtà. Ogni cane che viene adottato, io spero che anche questi Oney, Blanche, Litz, Annibale, Jack, probabilmente ne dimentico qualcuno perché sono veramente tanti, riusciranno a trovare casa. Una volta che i cani vengono adottati, ovviamente l'adottante non è abbandonato a se stesso, l'adottante è seguito sia da me che dai miei colleghi, nel caso necessita, per continuare un percorso post-adozione, per aiutare l'adottante a conoscere il cane, non per insegnargli cosa deve fare, ma per capire quali sono le situazioni che potrebbero dare un problema al cane e quindi insegnare al nuovo adottante come gestire questa situazione per aiutare il cane adottato.